Mi chiamo Sole Santoro e vivo con un disturbo d'ansia generalizzato da quando sono piccola. Esistono vari livelli di ansia. Ecco, io, modestamente, salto. Con i ragazzi lasciamo perdere perché è proprio... Massimo, il fratello di Emma. Devo darti una cosa. Una graffia di Emma? Le tue paure mi sembrano tante. Dimmi tutte le cose che ti fanno paura. Scrivimela. Forse insieme possiamo provare a superare. È una lista delle paure. Andare in bici. Provare un lavoro. Ma qua cos'è che ti segna? Ancora? Ma triste per amore. Come si chiama lei? Leonardo. Capito che mi piacevano pure le ragazze. Mi è già simpatico. Vabbè Sole, ma se stai dietro Massimo di Lorenzo... E se ci provo e poi va male? Ci hai provato e è andata male. Tu te ne sei andata a fare i batti tuoi, io sono rimasta sola come un cane. E non è colpa mia se tu sei ancora qui. Fare le cose che fanno tutti... Ma perché lo devo fare io? Perché sarebbe coraggiosa di tutte. E ne guardavo io? Tu sei o eh quanto il vio è andata a fare i batti tuoi, io sono rimasta da te. Grazie a tutti